Considerando la sua esperienza politica fino a oggi, no? Passato più faticosa, più divisiva, oggi più tranquilla, lo rifarebbe lei? Tornerebbe, rifarebbe tutte le scelte che ha fatto fin qui? Le scelte principali? O resterebbe a fare l'avvocato, diciamo? No, 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 sono assolutamente contenta della scelta che ho fatto e sono stata anche molto fortunata. Ho avuto tanto da questa esperienza politica e non posso che essere grata a chi mi ha consentito di farlo, a cominciare da Renzi, Napolitano, quando ho avuto l'occasione di fare il ministro, quindi sono sicuramente contenta di questa scelta. Poi nella vita alcune cose magari uno le potrebbe fare diversamente perché si cerca di imparare anche dagli errori, quindi è evidente che alcune cose uno le potrebbe fare diversamente avendo una seconda occasione, ma le scelte di impegnarsi in politica, di farlo con passione e con convinzione, sì, tant'è vero che adesso parto per Napoli, poi starò a sesto fiorentino a chiudere la campagna elettorale del mio amico Gabriele Toccafondi. Finale di campagna elettorale, approfitto per dire che naturalmente lunedì maratona mentana dalle 14 più o meno fino a notte inoltrata. Grazie Maria Elena Boschi, grazie anche a voi. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Arrivederci.